Allora, in ritorno dal nostro viaggio, dalla nostra gita, devo dire che mi è piaciuta moltissimo, devo ringraziare prima di tutto lui, lo devo ringraziare perché mi ha reso davvero una giornata. Io mi sono divertito, guarda, non mi sono mai divertito così tanto in vita mia, Stefano mi ha fatto pisciare addosso da ridere, guarda. Io no, io ho pensato, io ho pensato, io ho pensato, ringrazio ai miei amici per essermi stati accanto tutto il giorno, per avermi aiutato, ho sentito insomma la loro vicinanza, sono contento e penso che in futuro se ci fosse qualche problema ci sarò sempre, sia per Stefano Conti che per Federico Zanchetti. E io sto a guardare qua i messaggi, con il mio cellulare, state ferma che non su un cazzo di problema. Sì, con il suo cellulare, con il mio cellulare, vabbè gliel'ho prestato, mi presterà al suo qualche volta a poco che lo sa. Chi? Lui? Allora gliel'ho prestato mille volte, ti faccia doverà tutti i computer di casa mia, dai. Grazie. E io ho un amici di Tenebapu, ritornano a un bel viaggio. Tentapis, tentapis.